I carabinieri di Bari hanno arrestato due uomini, Francesco Lambiase di 42 anni e Nicola Ciaramitaro di 31 anni, presunti affiliati al clan Strisciuglio in quanto ritenuti responsabili dell'omicidio di Luigi Vessio avvenuto a Santo Spirito a Bari nel 2014. Entrambi sono accusati in concorso di omicidio, porto e detenzione in luogo pubblico di armi con l'aggravante d'aver agito con il metodo mafioso. Si tratta di ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP della Procura di Bari su richiesta della direzione distrettuale antimafia in seguito alle indagini condotte sull'omicidio di Luigi Vessio, ucciso da un colpo di pistola Smith & Wesson calibro 40 sparato a distanza ravvicinata da uno dei due arrestati che gli recise l'arteria femorale sinistra. Le indagini condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri con il coordinamento della DDA di Bari si sono arricchite anche del contributo di due collaboratori di giustizia ed hanno consentito di ricostruire le motivazioni dell'omicidio riconducibili a contrasti interni al clan Strisciuglio. La decisione di punire Vessio sarebbe nata dal rifiuto di quest'ultimo di proseguire nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti per conto di uno dei due destinatari del provvedimento e di saldare un debito di 800 euro.